La via è rock, quest'anno è il 14 di luglio, sabato la presa della Bastiglia. L'anno scorso è stata una bella sfacchinata anche due anni fa e quest'anno speriamo che gli sia uguale, ma sicuramente uguale. L'abbiamo organizzata tutti insieme molto bene, è venuta fuori una bella cosa, ci siamo fatti abbastanza sentire anche a livello comunale per riuscire a continuare a farla, abbiamo avuto voglia di farla e quest'anno la facciamo bella rock. C'è Marco che è andato a Saremo Giovani, ci ha raccontato tutto il suo viaggio, quando è venuto, quando è tornato, siamo stati tutti bene e ora si fa una bella bevuta per la via rock, ci si alza e si va a bere una bella cosa. Vi aspettiamo tutti il 14 di luglio, via rock. Menta, cocktail della via rock, menta, zucchero di canna, super lime, ghiaccio, whisky e sogno. E va, via rock.